Musica Martedì 16 febbraio, buongiorno a tutti e ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV Siete sul canale 17, sono le 7 e mezzo del mattino in diretta per seguire i giornali che tra poco sfoglieremo con il nostro touchscreen però prima c'è il calendario, come una volta si guarda il calendario, vediamo il santo che oggi è un beato il beato Giuseppe Allamano è un torinese dell'Ottocento, 1851 ebbe come zio San Giuseppe Caffasso e come insegnante San Giovanni Bosco ed è un beato che ha fondato l'istituto delle suole missionari della Consolata ma anche missionari della Consolata il sole è sorto alle 7.05 e tramonterà alle 17.39 vediamo adesso il tempo con le cartine animate della protezione civile delle Marche allora per la giornata di oggi che cosa prevede? nella prima parte della giornata previste deboli piogge sparse più abbondanti nel settore centro meridionale dal pomeriggio i fenomeni tenderanno a divenire più abbondanti sul centro nord della regione quindi tornerà a piovere oggi sulla provincia di Pesero dove potranno assumere anche queste precipitazioni di carattere di rovescio limite delle nevicate attorno ai 1600-1700 metri in abbassamento fino a 1200 metri in serata sul Pesarese le temperature sono stazionarie e lieve aumento quindi il tutto peggiorerà nel corso del pomeriggio per la giornata di domani avremo invece ancora precipitazioni diffuse durante la notte in particolare a nord quindi nella provincia di Pesero Urbino per il resto della giornata invece domani pomeriggio avremo solo precipitazioni sparse ma nelle zone interne che saranno brevi e anche isolate nevicate al di sopra dei 1100-1200 metri nel Pesarese quindi Monte Nerone, Monte Catria compreso il Carpegna naturalmente le temperature sono ancora in lieve diminuzione il mare sarà mosso per la giornata di giovedì 18 febbraio invece il tempo migliora con temperature in lieve diminuzione nei valori minimi il tempo sarà stabile nelle marche anche per i restanti giorni della settimana quindi anche per il fine settimana tanta paura ieri mattina intorno a mezzogiorno a Rosciano di Fano per l'esplosione, il boato, poi le fiamme che hanno coinvolto anche un operai, un socio della ditta di verniciature che appunto ha sede a Rosciano perché c'è stato questo incendio che è stato poi spento dai vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore ieri ma poi si è temuto anche come vedremo tra poco sui giornali per l'inquinamento, per la tossicità qualcuno a un certo punto parlava di tetto in Ethernet quindi c'è stata questa preoccupazione che poi per fortuna è scemata allora andiamo a vedere, cominciamo dal resto del carlino, la pagina di Fano eccola qui, fiammata al volto, poi il silos si incendia nube nera su Rosciano fuoco, la ditta Vib, ferito uno dei titolari che si chiama Roberto Di Ottallevi ha 57 anni ed è stato ricoverato a Cesena a austioni di secondo grado poi la testimonianza di una mamma in attesa del secondo figlio che abita nella zona vicinissima all'azienda un boato, poi il panico e fuggi-fuggi ho temuto per i miei bambini sulla pagina di Fano invece del messaggero paura nella fabbrica di Vernice un tecnico avvolto dalle fiamme un incendio a mezzogiorno sul posto i vigili del fuoco le forze dell'ordine e il sindaco per gestire l'emergenza ha gridato brucio, aiutatemi è grave al centro ostionati di Cesena in particolare si diceva delle mani perché questo operaio aveva dei guanti probabilmente di lattice, insomma di gomma e da quello che si è saputo da quello che abbiamo appreso gli si sono sciolti appunto dal calore quindi le ustioni sono in particolare gravi nelle mani subito evacuate le aziende vicine escluso però il rischio tossico e adesso invece sempre su questa notizia il corriere adriatico boato in fabbrica investito dalle fiamme grave incidente alla Vibba di Otalevi uno dei titolari ostionato alle mani fuoco danneggia l'impianto il ferito trasferito a Cesena distrutte due cabine di verniciatura coinvolti tetto e silo allarme per il fumo nero l'Asur intanto rassicura nube tossica dispersa dal vento e dalla pioggia il dirigente della prevenzione Agostini esclude che il tetto dello stabilimento contenga dell'amianto le altre notizie torniamo sul resto del Carlino pochi iscritti a Gimarra salta l'asilo di raccordo chiusa la sezione punte e scattano le polemiche l'assessore Mascherin dice i 15 bambini sono già accolti stati accolti non rischiano praticamente nulla mentre la sulle onde gravitazionali di cui tanto si parla in questi giorni il preside della scuola del Torelli di Fano Samuele Giombi ricorda il suo ex studente uno studente ex del liceo che è tra i ricercatori che hanno osservato ciò che Einstein aveva solo ipotizzato si chiama Riccardo Sturani lo vedete in questa immagine ed è il giovane fisico che dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico Torelli di Fano appunto si è laureato alla normale di Pisa e oggi opera nelle università di Urbino e San Paolo del Brasile la passione la mania dei droni si trovano ormai anche in edicola da costruire droni e mini elicotteri impazza la mania nasce il campo di volo per aereo modellisti a Castelvecchio inaugurata l'aviosuperficie chi vuole dunque imparare a pilotare un drone un modellino di elicottero o quello di un aereo oppure è già un esperto ma intendo esufruire di un'area attrezzata ed in regola con le stringenti normative nazionali non può non prendere in considerazione questo nuovo campo di volo per aereo modellismo che è stato attivato nell'aviosuperficie di Valcesano a Castelvecchio di Monteporzio dove scrive Sandro Franceschetti questa mattina sul giornale dove già da diversi anni funziona una scuola di volo per aerei veri ultraleggeri l'altra pagina oggi è il compleanno di Valentino Rossi il campione che si trova in Australia Valentino è nato il 16 febbraio del 1979 ad Urbino qui c'è un'intervista oggi al papà Graziano Rossi che dice resto innamorato di Valentino i 37 anni del 9 campione 9 volte campione del mondo il padre pilota racconta il rapporto con quel figlio così vincente il matrimonio non credo che sia l'ordine del giorno almeno fino a che sarà in pista a gareggiare e a correre Strattona una vigilessa siamo nel parcheggio probabilmente più affollato della nostra provincia da parte dei venditori cosiddetti abusivi Strattona una vigilessa che vuole bloccarlo un senegalese identificato e poi rilasciato in piazza Carducci sempre più invasa dagli extracomunitari e sempre più gente che protesta per chiedere che ci siano comunque controlli il comandante Galdenzi di Pesero dice le telecamere servono come deterrente ma quelle montate in piazza non funzionano da mesi come ahimè purtroppo registriamo un po' in giro dappertutto insomma esistono le telecamere ma sono solo lì per bellezza andiamo sulla pagina di Pesero del Corriere Adriatico sul porto via libera palazzine ed albergo addio all'ex consorzio agrario e all'ortonda bruscoli accordo anche per la stazione marittima attesa invece per l'addio alle bambine Jennifer Osana di 13 anni e di Ariana di 6 anni che con ogni probabilità così come ha detto il sindaco di Sant'Angelo Invado Gian Alberto Luzzi si terrà funerali che si terranno nella fine settimana tra l'altro proprio ieri il sindaco di Sant'Angelo Invado Luzzi proprio in collegamento con il nostro telegiornale diceva di proclamare il lutto cittadino poi ha lanciato anche l'Iban bancario per la raccolta fondi sapete sono del Benin in Africa quindi ci sono dei costi per sostenere questo funerale ci sono soprattutto costi per trasferire le salme di questi due angioletti in Africa e quindi c'è questa questa azione comunitaria che sta portando avanti il sindaco e anche il parroco di Sant'Angelo Invado per andare incontro alla famiglia ricordiamo che il papà è rimasto ferito era la guida della macchina che si è scontrata frontalmente sulla provinciale Fermignano non è in pericolo di vita il padre non è in pericolo di vita la madre anche se tra i due rimane la più grave andiamo avanti con la rassegna stampa andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico il Vescovo di Fano oggi e domani visita tutti i reparti dell'ospedale Santa Croce l'occasione è offerta dalla giornata del malato Monsignor Trasatti porterà conforto ai degenti e si confronterà con i medici e gli infermieri il diritto alla salute è uno dei temi più cari al Vescovo che ha richiamato i politici a considerare il territorio furti in calo siamo a Senigaglia parla il comandante della compagnia carabinieri Cleto Bucci dicevo furti in calo ma crescono le rapine a Senigaglia il bilancio 2015 della compagnia tre i tentati omicidi la pagina di Pesaro invece adesso del messaggero spaccati sul testamento biologico via libera in consiglio comunale ma il PD si divide quattro consiglieri votano contro dibattito acceso il nuovo registro passa con il sostegno di 5 stelle e della lista siamo Pesaro a centro pagina vedete anche la foto dell'azienda di Rosciano che appunto è andata a fuoco anche qui sulla pagina di Pesaro Urbino del messaggero sorelline morte la comunità si stringe alla famiglia i funerali di Jennifer e Arianna saranno venerdì o sabato stazionare le condizioni dei genitori e c'è anche giusto il fratellino minore che ha dieci mesi anche lui però è il meno grave per fortuna si sta riprendendo il sindaco Luzzi ha incontrato di nuovi parenti resta da definire la questione della sepoltura poi ancora sul quotidiano romano l'inserto pesarese armato di ombrello assalta una fabbrica e scusate una farmacia bandito solitario ieri alla comunale di Via Giolite a Pesaro minaccia i commessi e fugge con l'incasso di 1000 euro già in serata però la polizia ha bloccato un indiziato scassinati distributori automatici invece negli uffici dell'Asur overdose di eroina ha salvato un giovane un ucraino ubriaco danneggia invece un locale poi litiga con i vigili è stato denunciato questa dunque la cronaca e le notizie che troverete sui quotidiani quest'oggi in edicola l'informazione finisce qui noi ci rivediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.